I carabinieri della Compagnia di Lugo, durante i servizi svolti per il controllo del territorio, effettuati in particolare nei comuni di Lugo e Consilici, hanno denunciato alla Procura della Repubblica due automobilisti. Il primo è stato denunciato per guida sotto l'effetto di alcol. Si tratta di un italiano di 45 anni, controllato all'alba alla guida del proprio motociclo. A suo carico si è proceduto al ritiro della patente per la successiva sospensione e al sequestro del veicolo. Un secondo automobilista, un 34enne italiano, è stato denunciato, sempre dai carabinieri del nucleo radiomobile, per guida senza patente, perché sorpreso alla guida di un'autovettura e dopo aver confermato di non avere la patente di guida con sé, dai successivi accertamenti eseguiti è risultato privo di titolo abilitativo alla guida e rievocato gli per mancanza di requisiti nel novembre 2011.